L'Aquila ha il primo training center per il Centro Italia, inaugurato nella sede campus dell'edilizia a San Vittorino dell'Ese CPT, alla presenza di numerose autorità. Un progetto sviluppato in collaborazione con un'azienda di Lecco che si occupa proprio di questi aspetti. Il centro è nato dalla volontà di unire competenze e metterle a disposizione, non solo del territorio aquilano abruzzese, ma guardando più lontano, di tutto il centro-sud Italia. Il centro eroga tutti i corsi di formazione in renti lavori in quota e gli ambienti confinati, ma anche corsi di specializzazione per gli interventi sugli edifici storici ed iconici. Questo centro, come ha detto lei, è il primo centro d'Italia, noi l'abbiamo preparato insieme alla Conco di Lecco, che è la società leader per quanto riguarda questo tipo di lavoro. In pratica abbiamo attrezzato una palestra per formare operai e non tecnici per quanto riguarda i lavori in quota. Sa benissimo che per andare in quota non è che ci va una persona qualsiasi, dobbiamo prepararli e quindi verranno in questa palestra insegneremo a loro come si deve fare. E in più c'è anche gli ambienti confinati, sono anche gli ambienti confinati. Quindi auguriamo che oggi lo inauguriamo, i corsi partiranno dal 1 gennaio. Già abbiamo circa 15 operai che hanno chiesto di partecipare al corso e quindi partiranno effettivamente dal 15 gennaio. L'augurio nostro è che questo dovrebbe essere un centro che riguarda tutto il centro Italia e sud Italia e speriamo che funziona bene. Che incrementerà anche la sicurezza, si lavorerà in sicurezza, si insegnerà ad operare in sicurezza. Certamente, la nostra missione dell'ente scuola CPT è sulla sicurezza. È chiaro, lo scopo principale è la formazione sulla sicurezza.